Ma tu ti ricordi di uno che stava sempre con me? Il suo club è giuro della sanità. Io lo voglio incontrare. Ma perché? Tu sei figlio a me. Vedi di stare attento. Ma che voglio fare? Di invertire il tempo passato? Ma non sento che tu dicono tutto qua. Ma va a te. Grazie.